Sì. Buonasera, siamo qui con il Bomber del Grotto, Serafine, autore di una grande prestazione Uomo Sky. Partita dominata alla grande oggi, come hai visto il match? Ma guarda, ho visto bene, se giochiamo così penso non ce ne sia per nessuno. Cioè siamo venuti comunque per giocare, per divertirsi, però anche per vincere, insomma, statornello. Oggi ti abbiamo visto più dietro davanti Belella. Sì, ma perché essendo più ragazzi e comunque ci alterniamo, giochiamo un po' tutti in tutti i ruoli. Ci divertiamo così, giochiamo palla a terra e ci divertiamo. Che prospettive hai per il proseguimento del torneo? Guarda, noi, come ti ho detto prima, siamo qua per vincere. La squadra c'è? Questo è il nostro obiettivo, la squadra c'è. Un saluto al nostro presidente Giacomo Damiani, detto Buzzi, che oggi per motivi lavorativi, anche capitano, per motivi lavorativi non è potuto essere presente e lo salutiamo. Buona la prova, come al solito, il numero 8, Materazzo, panalino del centrocampo. Sì, sì, con Daniele, insomma, giochiamo bene, insomma. Ti ringrazio per l'intervista. Grazie a te, alla prossima.